Questa sera Racing Time, torniamo a parlare di Hublot con gli amici della Maison Svizzera e ho piacere di presentarvi Diego Bertani, General Manager di Hublot Italia. Ciao Diego. Ciao, buonasera, buonasera a tutti. Bentornato e Augusto Capitanucci, bentornato anche a te, il direttore di 24 Hours del gruppo 24 Ore. Ciao Augusto. Grazie Andrea, buonasera a te. Hublot continua a stupirci, sia con i prodotti ma anche con queste partnership particolari. Direi che il marketing della tua casa lavora molto bene, dallo sport, al calcio, all'NBA, il motosport e adesso ci stupite con Jay-Z. Chi è Jay-Z? Jay-Z è un grandissimo personaggio, un grandissimo amante di Hublot principalmente e un grandissimo rapper. La partnership con Jay-Z è nata fondamentalmente perché lui è un grandissimo appassionato di Hublot e a questo punto, perché no, realizzare una serie limitata per lui e non solo per lui. È stato realizzato per lui un orologio ad hoc con un disegno splendido sul quadrante di modo che possa essere visibile anche parte del movimento, in questo caso di manifattura. Piace, piace molto anche ai magari non appassionati o amanti di rap. Classic Fusion, una gamma completa dove nasce questo orologio dedicato. Ecco, raccontaci qualcosa di questa gamma. È una gamma fondamentale per la marca perché ripercorre la storia di Hublot. Il Classic Fusion, come dice il nome, ha linee molto pulite, molto più fine nella cassa, più arrotondato. È un orologio, direi, elegante nella sportività, all'interno della sportività della marca. Volevo aggiungere una cosa, tornando a Sean Carter, che poi è in arte Jay-Z, come diceva poco anzi Diego Bertani, e anche e soprattutto il marito di Beyoncé. Beyoncé per il suo compleanno gli ha regalato lo scorso anno il 5 Million Dollars, che è un orologio Hublot che costa ben 5 milioni di dollari, per quello è stato battezzato così. Ha voluto comunque Sean Carter realizzare, grazie alla sua grande e notevole passione per gli orologi, questo segnatempo specifico che porta il suo nome, Hublot Classic Fusion Sean Carter, che è realizzato in oro rosa o in ceramica, rispettivamente 250 pezzi e 100 pezzi. Credo che il prezzo parta da 13 mila euro, per cui nell'altissimo di gamma, quale si posiziona la marca Hublot, è comunque un ottimo rapporto qualità-prezzo. E credo che in questo modo voglia anche poter accontentare un po' tutti i suoi fan e i conoscitori dell'orologeria. Diego, materiali molto nobili, oro rosa, ceramica, in passato anche il titanio, ma leggo che vi siete buttati anche nell'universo dei jeans con un esperimento di orologeria sartoriale. Un'orologeria sartoriale, sì, in effetti abbiamo realizzato una serie limitata, sia per uomo che per donna da signora, in jeans, per cui il cinturino è rivestito di jeans, ma anche il quadrante. In effetti poi l'operazione più difficile è risultata essere fare in modo che il jeans presente sul quadrante non si rovini col tempo. Questo ci ha portato a trattarlo in un modo particolare, tanto è vero che comunque il nostro emblema a questo punto compare sul vetro zaffero, non più stampato sul quadrante, ed è una serie che ha raggiunto un grandissimo successo. Senti, sappiamo, oltre alla vostra operazione di marketing, dalla tua grande passione per il calcio, direi che ti farà, e ci farà molto piacere leggere tra gli ambasciatori di Hublot anche il magico Pelé. L'anno prossimo ci saranno i mondiali in Brasile, noi saremo timekeeper della manifestazione. Pelé, insomma, ci sembrava essere quantomeno un ambasciatore migliore, ideale, non solo per il Brasile, ma per tutto il mondo, per essere rappresentati in modo adeguato. Senti, in questo immediato futuro sudamericano ci saranno anche delle nuove boutique. Sappiamo che state localizzando in molti posti, in tutto il mondo, queste boutique dedicate al tuo marchio. Sì, sono tutte posizioni strategiche per quanto ci riguarda, quindi in ogni caso all'interno dei mercati per noi più interessanti. Non sono solo aperture di boutique, prendo in considerazione una delle ultime, quella aperta in Turchia. Abbiamo realizzato una boutique al di fuori dei concept standard, andando a realizzare una nuova architettura, di modo che si possa avere anche non solo l'idea dell'orologio, ma l'idea di quello che sta facendo Hublot per quanto riguarda lo sviluppo, la ricerca dei nuovi materiali e, perché no, anche da un punto di vista architettonico. Augusto, è corretto dire che ormai, oltre che stile Hublot, comincia a fare tendenza? Beh, direi proprio di sì. È un orologio di grandissima tendenza, ripeto, rimane nella cerchia degli appassionati e dei collezionisti, però è diventato un sogno un po' per tutti. Si riconosce, ha una sua identità, pur essendo una marca giovane, perché è una marca che non ha ancora 30 anni. Però, ecco, l'identità è fortissima. Le sue viti sono riconoscibili a decine di metri di distanza, la forma della cassa di Big Bang è ormai una grande attrazione e, ripeto, un sogno. La cosa bella che si è vista in questi anni, si è sviluppata sempre di più, sono le partnership, come dicevate poco fa, che nel calcio, ci sono abituato sempre alla grande, comunque, nel calcio sono fatte di nomi come Juventus, come Ajax, come Bayern Monaco, per dirne alcune, oltre che FIFA e UEFA, quindi mondiali, campionati europei e coppe. Nell'automobilismo non si può non citare quella con Ferrari, per esempio, che ha tutto tondo. Diego, mi tengo l'ultima domanda sui motori, anche perché la nostra è una trasmissione che ha una grossa valenza a quattro ruote. Leggo sempre dalla nostra redazione una cosa estremamente interessante, che state realizzando un orologio proprio per il nostro mercato, con alcune caratteristiche in vendita solo da noi. Sì, perché no, l'Italia in ogni caso ha sempre rappresentato un mercato eccezionale, sicuramente la vetrina del mondo. Era giusto, ritengo corretto, dedicare per questo mercato un orologio in esclusiva, diciamo così, di modo che si possa trovare solo all'interno del mercato domestico italiano, quindi. Un ottimo rapporto qualità-prezzo, perché l'economia italiana non è delle più floride, mi raccomando. Un eccezionale rapporto qualità-prezzo, abbiamo considerato anche questo aspetto. Tu hai qualche altro rumor, se c'è qualche altra novità in caso Blu, che vedremo da qui ai prossimi mesi? A naso, potrei dire, conoscendo il gusto degli italiani e la grande interpretazione che sanno dare in caso Blu, magari questo orologio dedicato all'Italia potrebbe anche essere un orologio della gamma Classic Fusion, però solo Diego Bertani può confermarci, ma poi ce ne saranno certamente anche altre, no? Il tuo è sicuramente un naso sopraffino, non hai sbagliato, sarà così, in effetti sarà così. Va bene. E ma non ci sono altre novità? Sì, sentivo parlare di golf. Sì, in effetti abbiamo in serbo ancora ulteriori novità, siamo partner dei Roveri, che è un golf di Torino molto importante, nell'ambito poi sempre di lavorare a quattro mani con i nostri partner, anche qui abbiamo già il layout e i tempi di produzione di una serie limitata che dedicheremo a questo golf, sarà anche qui un Fusion, in titanio in questo caso una serie limitata di 25 pezzi. Grazie, come avete sentito, tante tante novità in questa puntata di Racing Time e volevo chiudere. So che siete reduci nel momento in cui registriamo, c'è stato nel weekend scorso, le finali mondiali delle Challenge Ferrari, come è stato questo weekend del cavallino e cosa avete in futuro con questa partnership? Il weekend è stato eccezionale, anche perché non è stato solo un momento, un evento di motori, ma c'è stato anche un appuntamento umanamente importante, l'addio a massa, forse a mia memoria è l'unica squadra che io ricordi ad aver così dedicato un addio ad un pilota che è stato con la squadra per circa dieci anni, però un momento molto sentito da parte di tutti. Al di là poi dell'appuntamento sportivo, assolutamente di successo, una grande affluenza di pubblico, una grandissima presenza da parte di persone e di piloti che sono arrivati e hanno raggiunto la scuderia Ferrari al Mugello da tutto il mondo, proprio perché erano le finali mondiali, in questo caso del Ferrari Challenge, con anche la presenza di clienti Formula 1, così come di clienti XX, quindi insomma un grandissimo spettacolo a 360 gradi. Anche perché voi adesso siete arrivati sulla Formula 1, ma siete partiti proprio con il Challenge Ferrari, perciò direi un attaccamento da più anni. Un attaccamento da più anni, la partnership con Ferrari si sviluppa positivamente di anno in anno, tendiamo sempre a implementare il rapporto con i nostri partner, lo facciamo di modo che possa essere fatto il passo secondo la gamba, come si dice. La dimostrazione pratica c'è stata, abbiamo iniziato l'anno scorso, quest'anno l'evoluzione è stata la nostra presenza, la presenza del brand Bluow sulla macchina di Formula 1, e per cui prendendoci per mano sarà così anche per gli anni futuri. Anche perché, Augusto, si correva a Mugello, seconda casa della Ferrari dopo Maranello, però è stato veramente un evento internazionale, targhe, motorhome, piloti che arrivano da tutto il mondo. Dappertutto, qualsiasi tipo di appassionato, di qualsiasi livello, dal collezionista a colui che ha magari una sola vettura, parlo di coloro che hanno partecipato, una 308, una 246, fino ai proprietari del Formula 1, Formula 1 più recenti, vetture che hanno anche al massimo due anni. C'è un programma a Ferrari che si chiama Formula 1 clienti, che segue centesimo di secondo per centesimo di secondo, per collegarci al tempo, questi proprietari preparandogli gli automobili, così come fanno per Alonso, per Massa e come faranno per Raikkonen. Ed è stato impressionante perché nulla è stato lasciato al caso. Avendo partecipato anche a Mugello due anni fa, alle finali, devo dire che se mai ce ne fosse stata necessità, ed era imprevedibile, è ancora migliorato questo evento nel suo format. E Oblò, come diceva Diego, Bertani non fa mai il passo più lungo della gamba, ma nonostante tutto riesce sempre a raggiungere Ferrari allo stesso livello. E l'ho dimostrato anche nello sviluppo dei propri orologi, perché per esempio l'MP05, la Ferrari, l'orologio dedicato alla Ferrari, alla vetturetta sportiva, la più sportiva di sempre della Ferrari, è stato realizzato in collaborazione con gli ingegneri della rossa di Maranello. Per cui, insomma, direi che il parallelismo è di casa del cromosoma principale nel DNA delle due marche. Un'ultima domanda rapida, risposta ti prego telegrafica, perciò proseguiamo con Ferrari. Assolutamente sì. E con questa ultima informazione ringrazio Diego Bertani, brand direttore di Blu Italia. Grazie a te Andrea, grazie a voi. Ancora grazie ai nostri graditi ospiti. Questa settimana la puntata di Save Drive Motorsport si conclude qui. Non abbiamo le news dei campi gara, i campionati si stanno ultimando, ma per noi l'appuntamento è tra sette giorni. Ancora grazie ai nostri graditi ospiti. Grazie a tutti.